Allora, eccoci qua, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Io ho Consorzio Vivere Acque come tema che vorrei un attimo spiegare, che lei spiegasse ai nostri telespettatori e poi la rete ambiente. Sì, ETA fa parte di questi due, diciamo così, uno è un consorzio e l'altro è una rete di società. Il Consorzio Vivere Acque è un consorzio che è stato istituito circa due anni fa tra tutte, quasi tutte, insomma, le società che si occupano di servizio idrico in Veneto. Quindi da Acque del Chiampo, IEM, piuttosto che Acque Veronesi, le Acque appunto dell'Odigino, Trevigiano, eccetera. E quindi è un consorzio in cui queste varie società si sono messe assieme e stanno cercando di fare massa critica e quindi di ottimizzare, diciamo, quelle che possono essere le risorse. E quindi faccio un esempio molto concreto. Abbiamo fatto la gara per quanto riguarda l'energia elettrica assieme, quindi un'unica gara per 4-5 società, avendo un risultato molto positivo, quindi riuscendo ad avere anche, diciamo così, dei numeri molto importanti e molto positivi. E quindi poi sulla formazione e su altro. Quindi cercando di fare il sistema e cercando anche di ottimizzare le risorse e di avere delle economie di scala. Rete Ambiente invece è una rete che si è istituita e che dovrà adesso essere perfezionata con le società che si occupano invece di ambiente, quindi di servizi legati al settore ambientale, in cui si cerca di mettere in rete un po' quella che è anche l'impiantistica di ogni singola società, in modo da poter avere una fotografia generale e poi poter anche utilizzare gli impianti che già ci sono. E quindi tra società senza pensare di dover realizzare nuovi impianti o chissà cosa e quindi di mettere insieme un po' la varia impiantistica che c'è, le varie nozioni che ci sono, cercando anche qui di ottimizzare, di fare rete e di avere delle economie di scala. Cioè alla fine diciamo così lo scopo è proprio quello di cercare di non solo di confrontarsi, paragonarsi, ispirarsi un po' anche di quelle che possono essere le esperienze di un certo tipo e quindi positive che una società rispetto a un'altra può avere, ma anche di cercare di avere una razionalizzazione dei costi, delle economie di scala e quindi di tramontarle poi in benefici per le singole società. Benissimo. Ultima cosa, cambio di gestione, lei lascia la presidenza del consiglio di sorveglianza, diventa consigliere e che cambio di che tipo c'è stato? C'è in atto adesso? Allora, gli organi erano scaduti già perché scadevano con l'approvazione del bilancio 2013, quindi erano scaduti a maggio-giugno 2014. Purtroppo abbiamo assistito a 6-7 mesi di situazione diciamo così un po' ibrida, nel senso che i due consigli sono rimasti in funzione dello stesso, hanno fatto tutto quello che dovevano fare e quindi hanno comunque operato lo stesso. Però abbiamo un ritardo insomma di 6-7 mesi rispetto alla tabella di marcia perché diciamo c'è un po' di agitazione tra i soci su quelle che potevano essere appunto le rappresentanze territoriali o politiche insomma ecco che devono far parte di questi consigli. È importante che adesso venerdì c'è stata appunto l'assemblea dei soci in cui è stato nominato il nuovo consiglio di sorveglianza che ricordiamolo è il, noi abbiamo il sistema duale per garantire il cosiddetto controllo analogo. Il consiglio di sorveglianza è composto da amministratori che quindi sono gli amministratori appunto dei vari comuni, gli amministratori non hanno nessuna indennità quindi non c'è nessun compenso, l'unico compenso ce l'ha il revisore contabile che è una persona rispetto ai 15 che fanno parte appunto del consiglio di sorveglianza. Questi devono garantire il controllo analogo ma devono anche garantire, devono anche diciamo così un po' le strategie, gli indirizzi della società per conto dell'assemblea stessa che poi si riunisce nei momenti ufficiali. Il consiglio di gestione quindi è stato nominato quindi con una ripartizione territoriale, tre membri bassanese, uno all'alto piano poi restano il padovano. Il consiglio di gestione invece che è l'organo operativo verrà nominato adesso dal nuovo consiglio di sorveglianza e credo quindi in questa settimana o nella settimana prossima mentre questo organo che è un organo appunto operativo, quello che approva i progetti, approva un po' anche quelli che possono essere tecnico. Devono essere dei tecnici, non possono essere dei politici e appunto avrà anche la funzione di un po' proporre al consiglio di sorveglianza e all'assemblea anche le strategie future su cui poi basare insomma quelli che possono essere i passaggi futuri. Potranno esserci grandi cambiamenti? Per quanto riguarda i consigli? L'operatività e quel che attende? Allora i consigli si saranno rinnovati, tipo il consiglio di sorveglianza è stato rinnovato quasi al 100%, anche perché ci sono molti amministratori nuovi, molti sindaci nuovi e credo insomma mi sembra che un po' il volere dei soci sia quello di rinnovare anche il consiglio operativo, quindi il consiglio di gestione. Per quanto riguarda l'operatività non credo, nel senso che credo che il percorso fatto finora è un percorso sicuramente condiviso, che va salvaguardato, che va potenziato e poi insomma noi comunque abbiamo una struttura solida, diciamo così insomma ben ancorata, strutturata, qualificata, quindi insomma non credo ci dovrebbero essere stravolgimenti insomma di massa. Perfetto, allora buon lavoro a questo punto, ringraziamo di averci illustrato questa attività, ha fatto un bilancio ma estremamente importante anche per comprendere come viene fornito un servizio, le ragioni e le dinamiche che stanno dietro le quinte in qualche modo, anche i nostri telespettatori e fruttori naturalmente dei servizi della multiutility di Etra, noi la ringraziamo e a voi grazie, buon proseguimento. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS